La cancelliera tedesca Angela Merkel si avvia a questo storico quarto mandato a capo del governo tedesco. Ci sarà una nuova coalizione, vedremo quale sarà, perché i socialdemocratici si sono messi all'opposizione e quindi adesso dovrà lavorare Merkel su liberali e verdi. Ma cosa è successo in Germania? È successo che la grande coalizione non è stata premiata dagli elettori. Il partito della Merkel ha perso circa l'8% dei voti, i socialdemocratici sono andati un po' meglio, hanno perso però il 5%. Però questo grande vantaggio che comunque Merkel aveva le consente di restare su circa il 33% dei voti e quindi di guidare le danze per la nuova coalizione. L'estrema destra cosa ha fatto? L'estrema destra ha fatto un buon risultato, sono arrivate sul 13% questi della FD, che è un risultato grande, ma rispetto ad altri paesi europei resta comunque la destra estrema molto marginale. Pensiamo alla Francia, a quanti voti ha avuto Le Pen, a altre forze populiste, magari non d'estrema destra, ma come sono in Italia, ad esempio i 5 Stelle o la Lega o Fratelli d'Italia, li ha messi tutti insieme, queste forze sono molto più nulle e morose, molto più forti, anche in Olanda, di quanto sia la destra estrema tedesca. Anche se è una destra estrema un po' pericolosa, perché in mezzo ci sono anche dei nazisti, dei neo-nazisti e così via. Ora Angela Merkel dovrà cercare una nuova alleanza. Nella notte si parlava di un'alleanza tra i popolari di Merkel, i liberali che tornano in Parlamento con un ottimo risultato, su posizioni più a destra di quelle che avessero avuto in passato, e forse i verdi. È una coalizione molto difficile, adesso bisogna vedere bene i numeri parlamentari, in effetti i seggi. Comunque sia, se dovesse esserci una cosa, un'alleanza del genere, su molte politiche ci sarebbe uno spostamento a destra della Germania, perché mentre Merkel su alcune politiche verdi si è molto esposta, è andata avanti, sempre fermandosi sulla soglia dell'industria automobilistica, ma ha chiuso le centrali in quelle aria, ha fatto politiche che gli ambientalisti hanno gradito, su altre cose, sulla parte economica invece ci sarà probabilmente uno spostamento più a destra, quindi c'è poco da sperare per paesi come l'Italia, di trovare una comprensione da parte della Germania nei prossimi anni, sarà più difficile immaginare di poter condividere il debito, condividere i rischi delle banche e così via, perché in Germania comunque l'asse del governo su queste politiche si sposterà molto probabilmente a destra.